Ciao a tutti, sono Davide Zeta. In qualità di Endorsers Flatcraft vi presento oggi il modello Nebosha Zikovic, che è il modello che uso io durante tutti i miei concerti, registrazioni e produzioni. Perché consiglio questo modello? Principalmente per il suono che ha sulla marimba. E' un modello che ha molto peso sulla testa delle mazzuole e quindi permette di far risuonare la tavoletta di legno. Poi in più sono delle bacchette molto bilanciate e quindi nonostante siano abbastanza pesanti si riesce comunque a eseguire passaggi veloci per il loro bilanciamento. Abbiamo 7 modelli più 1, dalla mazzuola più morbida alla più dura, dall'1 al 7, e un altro modello che è multitono. Abbiamo i modelli 1 e 2, chiamati soft diciamo, sono più morbidi e servono per registro basso. Il numero 1, che sono ovviamente le più morbide, per i bassi. Il suono è molto definito, nonostante sia molto morbido. Ok? E poi dopo abbiamo le numero 2, un po' meno morbide. E poi possiamo iniziare anche a spostarci più nel centro, iniziare a fare tipo dei corali. E poi abbiamo le 3 general, ok? Ovviamente sono per il registro medio, ma possono essere usate appunto anche su tutto il registro perché sono fatte in modo tale da poter prendere anche i bassi, ok? Per esempio il numero 3, bene? Senza rompere, ok? In alcun modo le tavolette di legno. Queste qua sono quelle che uso maggiormente io, che sono il numero 4. Perché riesco comunque a spostarmi in tutto il range. E sono comunque molto chiare. Ok? E poi le azzurre, che sono le 5. Le numero 5. Il bello di queste mazzuole, in generale, è che possono essere usate in combinazione in modo tale da non capire che si stanno usando mazzuole diverse. Per esempio, abbiamo una numero 3 al basso, due numero 4 all'alto e una 5. Quando otteniamo un range che è di dinamica medio, riusciamo a amalgamare bene. Solo quando iniziamo a suonare più forte, troviamo il limite. E ovviamente qua sforiamo. E possiamo, per esempio, in combinazione, far sentire il voicing alto, no? Questa è una cosa che mi piace molto di queste mazzuole qua. Perché altri tipi di mazzuole per marimba che ho provato avevano questo difetto, diciamo. Avevano... Si sentiva troppo la differenza tra un modello più morbido e il successivo più duro. In questo caso non riesco bene a amalgamare il suono mentre sono in performance. In ultima abbiamo le bacchette più dure, che sono la numero 6 e la numero 7. Sono usate più per suonare in orchestra perché con tutto il suono che c'è l'orchestra, tutta la massa sonora che abbiamo, per esempio, se la marimba deve suonare da solista, deve riuscire a penetrare e farsi sentire attraverso tutta l'orchestra. Quindi abbiamo queste bacchette che sono le più dure dei modelli. Se abbiamo numero 6, facciamo un esempio qua. Si sente subito il cuore della mazzuola. E le numero 7. Che sono quelle che preferisco anche per il colore. E qui arriviamo al più uno. Perché dico più uno? Perché queste bacchette sono multitono e nel modo in cui sono avvolte al cuore possiamo suonare piano. Ma possiamo anche suonare forte andando direttamente a colpire con il cuore le tavolette. E queste mazzuole si usano quando non abbiamo tempo di cambiarle. E abbiamo un brano dove dobbiamo suonare piano e subito suonare forte. E visto che non sono poi così tanto bravo con i benevoli, con i saluti, vi lascio con un po' di musica, finalmente. Ciao. 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 Ciao.